Grandi eventi al Cineteatro Roma a Bagheria, sabato 3 e domenica 4 maggio, Manfredi di Liberto in Non ho tempo da perdere, con la partecipazione della danzatrice del ventre, Giada Di Pasquale. Il 17 e 18 maggio, finalmente anche a Bagheria, arriva il primo spettacolo di Burlesque, uno show dedicato alla sensualità e femminilità espressa in danza. Prenotazioni biglietti presso il botteghino del teatro. Per tutta la settimana in esclusiva il film Spider-Man 2, ore 17, 20, 22 e 30 a soli 6 euro. E per tutti gli spettatori un poster in omaggio di Spider-Man 2. Approfittatene! Per informazioni 091 90 60 46 oppure 329 41 61 536.